Ciao ragazzi, trasporto anche in questa diretta quello che era il messaggio che ho voluto portare nella storia precedente, con il rimane salvato per intero. Allora, io non è che voglio fare polemica su tutte le cose, però in un certo senso consapevole della mia, tra virgolette, disabilità, diversità, fragilità o quello che è, cerco di usare i social come mezzo di esposizione, di denuncia, come mezzo col quale raccontare il retroscena e gli stati d'animo che vive una persona che ha problemi come me, per esempio, ma io sono riuscito a salutare e stavo dicendo che appunto non voglio fare casinia, sono una persona tranquillissima e cerco di stare bene in mezzo alla gente, veramente, non vedo motivo per il quale insistere a voler dare fastidio. Forse sono stato poco chiaro anche nel messaggio che ho scritto perché sembra che mi lascomo presa con la persona che mi ha chiamato con l'anonimo, quando in realtà quello che volevo dire era riferito in parte a chi ha parlato e sdignacciato dietro. Cioè, raga, se non vi fa piacere la mia compagnia o quello che magari, cioè la mia compagnia è il fatto che cerco di stare in mezzo alla gente. Allora, prima cosa, mettetevi nei panni, imparate, cioè imparate niente, provate a vivere costantemente alla ricerca di un po' di calore umano, di affetto, di amicizia e non averla mai da nessuno, di essere corrisposti semplicemente con una sdignacciata, con parole dette alle spalle, o meglio ancora, anche se sincere, con parole che fanno male, perché sì, certe parole fanno veramente male, quando te le dicono parole, apprezzo di più che non chi ti parla alle spalle. Io nel cuore posto una sofferenza grande sin da quando sono nato, da sempre, perché non è bello vivere consapevoli di quello che si è, con già un grande desiderio di morte nel cuore e poi avere a che fare con gente che gioisce del fatto che io possa non essere nei paraggi per sto tempo. Innanzitutto perché comunque io intendo continuare per la mia strada, fare quello che ho sempre fatto nel rispetto di tutti, anche per i resti dei miei giorni, sperando che non siano comunque tanti, perché a me l'idea di tampare ancora anche solo 10-20 anni, mi viene male veramente, perché questi ultimi 25 anni sono stati i più brutti della mia vita, veramente. Vediamo chi ha scritto questo leggendo, ok? Voglio sperare che chi abbia parlato dietro questa telefonata non sia chi sono io, cioè non sia chi penso io, perché non cambierebbe nulla se non il fatto di dire ma guarda da un'altra parte quando mi vedi che forse nello, o forse è quello che tu mi chiedi di fare quando ci vediamo. E' veramente brutto, cioè se da una parte non augura a nessuno di vivere tutto questo, dall'altra parte vorrei che la gente che mi viene a dire di lasciare perdere questa gente, perché è ignorante sapesse le cose brutte che dicono di loro gente che comunque le considera per quello che sono. Io so di avere dei difetti fisici, però anche se so di non essere quel gran intelligentone, penso quantomeno di non essere deficiente, fino al punto da non capire lo pseudo-buddhismo che si nasconde dietro a queste situazioni che al giorno d'oggi fanno veramente schifo e non voglio entrare nel merito politico, ma a un certo punto voglio sperare che queste persone non siano le perbeniste che vogliono rimostrare accoglienza nei confronti, magari, ecco, non voglio fare una questione politica, però come molti di voi sapranno sicuramente adesso c'è molto pervenismo anche dietro all'accoglienza dell'immigrazione. Ecco, gente che è, tra virgolette, così tollerante nei confronti dell'immigrazione e io non ho nulla contro nessuno, perché a casa mia è benvenuto chi della mia casa rispetta le pareti e le persone che ci abitano dentro, e questo a livello generale. voglio essere sincero fino in fondo, penso che prima che essere ben rimostrati magari per parare il culo o lecciare il culo a queste persone sia ancora più rispettosa e tollerante nei confronti di chi ha dei difetti fisici come io e io. Nel nome di quello che è la mia persona mi sento di dover dire a queste persone di guardarsi dentro e chiedersi come l'avrebbero vissuta se al mio posto ci fossero state loro, queste persone a combattere contro tutto, contro tutti, per cercare di trovare un proprio posto nel mondo e soprattutto un'identità stabile per non continuare a lottare contro se stesse, contro la morte, per cercare di stare vive, di stare al mondo con una motivazione reale. Questo si mi fa veramente male, molto male, perché a questa gente pur per quanto alla fine può essere animata da tutto il buon amore del mondo, ma non è così che lo si dimostra, perché credo che ognuno di noi abbia il diritto di vivere per come può e di esprimersi al meglio senza dare fastidio a nessuno. Probabilmente io sono una persona che a qualcuno dà fastidio, ma sono anche la stessa persona che crede che di fronte a un problema non ci sia niente che non si possa aggiustare, basta soltanto fermarsi un momento e chiarire, come dice anche Cricri, ovvero il brano che interpretato da Fabio Fusi in featuring con Antopaga, spero possa uscire presto e io mi auguro anche di sapere in quale data, di modo che comunque questo possa coronare il significato per il cuore ha voluto tirarla fuori dai cassetti, o meglio dagli archivi del mio computer a distanza di tanti anni da quando l'ho composta, per uscire con un senso e una specie di regalo alla consapevolezza di chi mi ha fatto capire a mando scuola tante cose della vita. E niente, non voglio essere ripetitivo, ma veramente c'è davvero tanto da guardarsi dentro, tanto, perché adesso sembra che sono qua a fare la vittima, per molte persone sembra questo, sembra che voglio calcare il dito, che voglio insistere a impormi, però è da una vita che nonostante non abbia chiesto io di essere al mondo, sono qui all'alba dei quasi 40, i prossimi sono 38, è da una vita che sono qui che lotto, che cerco di dare un senso all'inesistenza e non lo trovo, cioè queste persone sono convinto che mi direbbero, allora massati, io non voglio arrivare a questo, anche se comunque tra il 7 e l'8 di ottobre di motivazioni buone ne ho avuto abbastanza e da quel bruttissimo momento non ci sono ancora uscito a distanza di oltre 9 mesi, ormai sono 10 mesi l'8 di agosto e credo che probabilmente non passa mai, perché chi si suicida è morto e basta, ma chi tenta di suicidarsi e non ce la fa, vuoi perché non ha il coraggio, vuoi perché non è capace e si sente ridacqua anche per non essere riuscito a mettere fino alla propria esistenza, vuoi perché voglia dare comunque un senso alla propria esistenza, nonostante tutto, quando si arriva a un punto di conflitto, anche all'ultimo tentativo di mettere fine alla sofferenza, tutto quello che arriva dopo vi posso assicurare che comunque non è più vita, perché quando uno arriva a decidere di togliersi di mezzo è perché ha di motivazioni buone per stare al mondo e non ne vede più. E io sono convinto che queste persone che uscillano tra 18 e 20 anni soprattutto, non sanno veramente cosa si nasconde dietro alla paura anche solamente di guardare in faccia, di guardare negli occhi una persona e di dirgli quello che realmente sente dentro e quello che magari prova per qualcuno quando soprattutto non è un sentimento d'amore, ma di gratitudine per essere la persona che in qualche modo l'aiuta a vivere. E anche stasera ne parlavo con delle persone quando sono uscito e ho passato con questi dei bei momenti, loro mi dicevano di pregarmene e di guardare avanti, ma dopo tanto tempo che lo fai, dopo continue lotte contro se stesso, contro tutti, contro il mondo, non puoi continuare a dire voltiamo pagina, perché ormai non ne ho voltato una discopedia, ne ho già voltato dieci. E le persone che arrivano continuano a voltare pagina freddandosene del giorno prima. Ragazzi, qua non mi avete accordato, domani non è un altro giorno. Ogni giorno serve a raccogliere qualcosa e soprattutto la consapevolezza di che cos'è la vita e a cosa serve e di perché c'è stata donata. E di fronte anche solo al minimo problema non si può continuare a scappare, perché chi scappa, chi volta pagina, chi se ne frega, è solamente un codardo, è un bigliacco che della vita non ha capito niente. Ogni giorno una lezione è abilita che serve per aiutarsi a crescere, a migliorare, ma se si guarda sempre avanti, senza mai voltarsi indietro, senza mai far tesoro dei propri errori, senza mai scavalcare, senza mai porre rimedio alle situazioni prima ancora che voltare pagina, per ricominciare da capo, più strutturati. Forse non ha capito perché siamo al mondo, non si può sempre soltanto voltare pagina. Dopo un po' serve anche fermarsi, fermarsi a riflettere su se stessi e i propri errori. A volte sono sicuro che quando si sbaglia, soprattutto in due, la colpa non è sempre solamente di una persona, soprattutto se si deve parlare di colpe. A volte queste le teniamo colpe, ma in realtà non sono colpe. O forse la colpa è solamente di chi non si ferma a cercare di trovare una soluzione, di cercare di aiutare l'altro a capire dove ha sbagliato, ma non di aiutarlo per se stessi, di aiutarlo anche per l'altro. Perché quando tu aiuti una persona a migliorare, hai aiutato se stesso e soprattutto hai fatto una buona azione, e l'altissimo da lassù prenderà queste persone un giorno. Io non so quanti di voi sono credenti. Io non sono sicuramente il migliore dei praticanti, ma dentro al mio cuore sento che qualcuno da lassù sicuramente ci prenderà alla risa dei conti, se abbiamo fatto del bene, come ci casserà se abbiamo fatto del male. E soprattutto quando facciamo del male agli altri, dobbiamo pensare che il male peggiore lo facciamo a noi stessi, perché io il male che ho ricevuto l'ho sempre perdonato, però veramente non vorrei mai, e dico mai, trovarmi nella situazione di essere consapevole, di fare del male a qualcuno e continuare a farlo. non ha senso, non ha senso perché io sono una persona che mi ritengo, non che mi ritengo, ma che voglio essere buona e rispettosa soprattutto del mio prossimo, perché io so cosa vuol dire essere quello che sono. Non sono deficiente, e mi sono accorto che molta gente pensa che io sia ritardato, e questo mi fa male, non tanto per me, ma perché mettendomi nei panni dell'altra una persona non riesco a capire quale tipo di sentimento l'anima, a non essere in grado di voler scherzare di non essere così, di farsi nel migliore dei modi, perché quando fai del male a qualcuno, mi ha detto una persona anni fa, che secondo la filosofia buddista, vabbè poi lasciamo perdere la filosofia buddista, quando fai del male o del bene a qualcuno, non ti torni dito una volta, e probabilmente se io sono quello che sono, nella mia vita precedente devo aver fatto del gran male alle persone, perché comunque mi rendo conto che non è bello quello che sto vivendo. Per quello che mi riguarda personalmente non ho paura a dirlo, che per la persona poco gioiosa che sono avrei preferito mille volte essere disabile fisico a livello paraplegico, ma avere un sorriso nel cuore, un sorriso che mi manca da sempre, e probabilmente forse avrei preferito anche di non essere consapevole di quello che sono, così almeno di tutto il male che sto ricevendo e ne avrebbero da ridere solamente le persone che me lo fanno, perché nel mio cuore c'è solo una motivazione per piangere, ma non per me stesso. Per tutte quelle persone che non ho saputo aiutare a capire che alla fine anche la mia vita deve essere un dono per qualcuno, invece per come la sto percependo penso che sia solamente un problema e questo vi posso assicurare che non mi fa piacere. No, no, neanche un po' me ne fa. Questo è quello che penso. E scusatemi se faccia nomi e potete far pure girare questa diretta a chi volete. Io dico una cosa, Christian, faccio il tuo nome perché tu sai chi sei. Se qualcuno sa ridere del fatto che io dico che tu sei una brava persona e che ci devo tanto, beh, allora allontanati assolutamente da queste persone perché queste persone non hanno ancora capito che al tuo cospetto si devono solo inchinarsi. e non voglio dire una vulgarità ma non sono nemmeno degno di succhiarcelo perché chi fa del bene non può essere deriso e tu, anche se probabilmente non mi riterrai il miglior amico del mondo, la persona migliore, hai saputo darmi tanto tu e il tuo fratello, nel suo piccolo o nel suo grande, come volete, veramente, anche se avete caciuto il fastidio che talvolta vi ho dato, sicuramente in tutto questo non si chieda signori perché avete avuto la forza di trovare comunque un sorriso da dedicarvi e con questo non voglio dire che non siano i pochi che le persone che non hanno saputo fingere lo schifo ma il celaggio che ne hanno rimostrato in pazzo, ma sicuramente siete persone più forti di chi non ha saputo sorridermi, di chi non ha saputo andare oltre le apparenze, di chi continua a non capire perché io stengo tanto così tanto a voi che mi siete stati a vostro modo più vicino di tante altre persone. Con questo penso di non dover raggiungere altro saluto tutti e auguro la buonanotte sperando che questa sia l'ultima volta che torno su un argomento così spinoso anche se non ho paura a rifarlo per altre mille mille volte perché comunque aiutare gli altri a capire quello che io vivo veramente è solamente un modo per me per cercare di andare oltre alla sofferenza che mi domina e prevarica sui miei desideri di vita soprattutto in quest'ultimo periodo nel quale di di certezze non mi ha più. Buonanotte Ciao